A nome dei singoli cittadini e associazioni del gruppo informale del municipio. Noi vorremmo far notare che Cervloni ha denunciato Sergio e Maurizio in conseguenza del fatto che loro, insieme a molti cittadini, hanno manifestato una preoccupazione per la situazione creata nella gestione dei rifiuti a Malagrotta. Questo Consiglio Municipale dovrebbe finalmente fare propria quella preoccupazione in quanto legittima. Infatti Sergio e Maurizio hanno evidenziato un problema che avrebbe creato un danno alla salute pubblica. Hanno dunque agito bene facendo quella denuncia che anzi sarebbe dovuta partire da questo municipio in accordo con i cittadini. E' quindi necessario, a nostro avviso, che questo Consiglio Municipale enunci ora che quelle preoccupazioni relative alla salute dei cittadini avevano un senso schierandosi in maniera aperta e dura dalla parte di Sergio e Maurizio e dei cittadini che fino ad oggi si sono schierati su questa questione, sia lavorando finalmente e attivamente per una corretta gestione dei rifiuti nelle sue varie forme, e sia impegnandosi in caso di una pronto denuncia, come Sergio ci ha detto, a costituirsi parte civile o avanzando questa richiesta al Comune. Grazie. Grazie.